Dei tanti siti storici di Fano, il Pincio più di altri racchiude l'anima fanese e contempla nello stesso luogo tutte le radici della città. Romanità, Medioevo e Rinascimento, Porta sull'Adriatico, Carosello dei cari allegorici del Carnevale, nonché luogo di incontri e di ritrovi giovanili. Ecco spiegato il perché dell'amore viscerale dei fanesi per questo luogo. Dei 2,6 milioni di euro dell'assestamento di bilancio del comune di Fano, derivanti da maggiori entrate e trasferimenti di fondi dallo Stato, 950 mila euro sono destinati alla riqualificazione del Pincio. Nuova illuminazione, più punti luce per evitare anche zone d'ombra, soprattutto di notte, dove le frequentazioni del mondo del piccolo spaccio rendevano in sicuro il luogo, oltre che maggiori occhi elettronici per la videosorveglianza sono gli interventi di sicurezza passivia che verranno effettuati. Ma tutta l'area del Pincio, a partire dalla Porta Augustea fino al bastione del Nuti, subiranno un profondo intervento che restituirà una nuova immagine a questo luogo attraverso anche una nuova pavimentazione tutta in Selci. Recupereremo quindi, taglieremo anche quelle siepi che sono nate intorno al fossato, agevolando l'ingresso alla città di Fano pedonale, l'ingresso pedonale alla città di Fano, toglieremo quelle siepi per dare più evidenza al bastione, lo illumineremo in maniera scenografica molto più evidente per dare lustro a questo bellissimo monumento, cercheremo di adeguarlo e cercheremo di rendere più fruibili i giardini del Pincio sopra il bastione in maniera tale da togliere anche dove è possibile delle siepi che a volte chiudono la vista di questo bellissimo monumento e lo rendono forse anche poco accessibile. Una cosa interessante è che stiamo valutando insieme alla sovrintendenza, insieme ai tecnici comunali, la cui collaborazione è molto preziosa per raggiungere un obiettivo importante come quello che ci siamo prefissati, faremo anche delle verifiche sul reale stato con il georadar per vedere quello che c'era e quello che probabilmente è ancora nascosto. Un tema importante è anche quello dell'illuminazione che sarà scenografica pur per rendere meglio anche quel bastione e la porta, quella fianca all'ingresso della città, ma sarà illuminata anche la parte sopra che adesso lo è scarsamente e sarà aumentata comunque tutta l'illuminazione dell'aria in maniera tale che possa essere anche più fruibile la sera. Ovviamente un'attenzione poi sarà rivolta anche alle infrastrutture per poter contenere anche videosorveglianze eccetera, che in realtà già c'è diciamo oltre lungo la statale, oltre l'illuminazione del Nuti lungo la statale e che comunque potrebbe essere anche potenziata. Sei mesi di lavoro con probabile inizio nella prossima primavera, ma entro l'anno in corso verrà presentato il progetto esecutivo.